Ogni anno la mostra Visio, nel più vasto contesto del Festival lo schermo dell'arte di Firenze, ragiona sulle ultime frontiere della ricerca sulle immagini in movimento e, ancora una volta, ci restituisce una fotografia ricca e molteplice del panorama internazionale. Per il 2019 il curatore Leonardo Bigazzi, una delle teste più interessanti della scena attuale, ha scelto di concentrarsi sul tema Images After Post Internet. Il titolo gioca un po' proprio su questo dualismo tra after e post. Il post di post Internet in realtà non vuol dire certamente dopo Internet, ma vuol dire definisce una condizione in cui c'è ormai una consapevolezza e un rapporto con la rete che non può essere più ignorato e non può essere più escluso e la consapevolezza che l'arte ormai è condivisa e creata anche con la consapevolezza che verrà condivisa in rete. Da questo assunto deriva il passo successivo, ossia il ragionamento sul modo in cui la nuova prospettiva si traduce nel lavoro degli artisti e nello spazio espositivo di Palazzo Strozzi, sempre più simbolo di una Firenze che vuole pensare fortemente all'arte contemporanea. Si possono incontrare realtà virtuali, videogame, simulazioni immersive, accanto comunque a film di impianto più tradizionale, ma di altrettanta evidenza anche politica, perché è chiaro che le possibili risposte alla questione del post sono molteplici e plurali, così come diversi sono i luoghi, anche qui nel senso più largo del termine, che possono accogliere le opere d'arte. La capacità di muoversi tra questi, tra il white cube e il black box, è secondo me una consapevolezza propria di questa generazione di artisti. La mostra di Palazzo Strozzi è forte, a tanti travolgente, vive di un'intensità documentativa importante, è insomma una testimonianza molteplice che parla, in fondo, delle nostre vite, come scriveva Don De Lillo ormai già più di vent'anni fa, soffocati dalla tecnologia, ed è necessario ad un certo punto chiedere a Leonardo Bigazzi in che modo l'arte ci aiuta a riconoscerci in questo mondo, che cosa pensa, che possa fare per ciascuno di noi. Io penso che l'arte debba porre soprattutto delle domande più che dare delle risposte, quindi questa è una mostra che certamente fa riflettere, certamente ci rende consapevoli di quelli che sono i rischi, per esempio il rischio ambientale, a che stiamo fronteggiando sempre di più, e allo stesso tempo lascia aperto, sta a noi dare delle risposte. La sensazione, lasciandosi prendere dalle opere in mostra, è che proprio le domande siano le loro stesse risposte, perché già nel momento in cui si accetta la complessità della formulazione critica, si è deciso di prendere una strada, che è una strada di libertà. Poi, appunto, ognuno deciderà come usare tale libertà. Guardando questi video, in fondo, è come se oggi avessimo trovato un modo, provvisorio per definizione ma presente, di intuire a che cosa serve l'arte. È probabile che ci sia di che essere soddisfatti.